Ciao ragazzi e benvenuti sul canale ND. Come emerge da alcune immagini satellitari pubblicate da Frontline Intelligence il 17 ottobre, i missili ucraini a Takams non hanno colpito solo l'aeroporto militare di Berdyansk, ma anche l'aeroporto militare di Luhansk, dove sono stati distrutti almeno altri 5 elicotteri militari russi. E alla luce di questi aggiornamenti alcuni esperti militari e blogger Z ipotizzano già delle conseguenze devastanti per l'aviazione tattica russa, soprattutto nelle regioni ucraine occupate. In questo video vorrei dare un'occhiata anche alla situazione al fronte, che nelle ultime settimane si sta letteralmente incendiando. Le divisioni russe continuano, senza ottenere nessun risultato tangibile, ad assaltare le posizioni fortificate degli ucraini nei pressi di Avdivka, sprecando una quantità di risorse davvero mostruosa. E intanto gli ucraini colpiscono a sorpresa da un'altra parte, sbarcando sulla riva sinistra del fiume Dnipro, nei pressi di Poima e Piscianovka. Vi faccio vedere inoltre il bollettino più recente dell'Oryx riguardo la quantità dei mezzi persi da entrambe le parti. E anche qua vedremo cosa ne pensano gli esperti e i blogger militari Z. Ragazzi continuate a guardare questo video, mettete un like se vi piace e vi chiedo per cortesia di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie! Come qualcuno di voi accennava già nei commenti un paio di giorni fa, il 17 ottobre non è stata colpita solo la base dell'aviazione militare russa a Berdyansk, ma anche la base dell'aviazione russa a Luhansk, nella regione occupata di Donetsk. Questi dati però sono stati ufficialmente, diciamo così, confermati da alcune immagini satellitari pubblicate dall'agenzia Front Intelligence solo ieri. Queste immagini sono state subito analizzate da tutta una serie di esperti che hanno confermato la distruzione di altri velivoli dell'aviazione militare russa. Dalle analisi di Tatarigami, ad esempio un analista militare molto attivo su Twitter, risulta che sono stati completamente distrutti nell'aeroporto di Luhansk almeno cinque elicotteri. E probabilmente molti altri velivoli che erano presenti nell'aeroporto nel momento dell'attacco sono stati danneggiati. Purtroppo quest'ultimo aspetto non può essere confermato al 100% a causa dei limiti della risoluzione delle immagini. Ieri la Casa Bianca ha confermato ufficialmente che l'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti alcuni missili a Takams a grappolo con una gittata di 165 km. E il ministro degli esteri ucraino invece Dmitry Kuleba ha assicurato che le forniture di questo tipo di armamenti continueranno e diventeranno anche più numerosi. Bisogna dire che questo non sembra assolutamente improbabile visto che l'esercito degli Stati Uniti sta sostituendo i missili tattici a Takams con i missili di nuova generazione PSM, Precision Strike Missile. Intanto alcuni esperti militari tra cui anche esperti russi prevedono già per l'aviazione tattica russa al fronte dei problemi insormontabili, problemi che potrebbero avere anche delle conseguenze strategiche perché potrebbero facilitare l'avanzata degli Ucraini soprattutto in Zaporizia e nella regione di Kherson. Infatti come avevo già accennato anche nel video scorso, gli elicotteri russi K-52 e Mi-28 armati di missili anticarro Vicher e Ataka con una gittata di 8 km sono uno dei mezzi principali che ha a disposizione l'esercito russo per fermare l'avanzata dei blindati e dei carri armati ucraini. Sono uno strumento perfetto perché nel caso di un tentativo di sfondamento da parte dei mezzi corazzati ucraini questi elicotteri sono in grado di arrivare in prossimità della linea del fronte nell'arco di poche decine di minuti e fermare questi mezzi con l'utilizzo appunto di questi missili anticarro Vicher e Ataka con una gittata di 8 km. Una gittata che tra l'altro gli permette di rimanere la maggior parte delle volte fuori dal raggio d'azione dell'antiaerea ucraina. Questo lavoro non sono in grado di svolgerlo con la stessa efficacia né l'artilleria né i lanciarazzi né tantomeno i sistemi anticarro portatili ed è proprio questo che sostiene nel suo commento anche l'esperto militare pro russo Andrei Moroso. Gli attacchi agli aeroporti dell'aviazione tattica nel sud non sono solo la pubblicità degli armamenti americani ma anche un chiaro segno dell'intenzione degli ucraini di privarci dei mezzi anticarro più mobili e più efficaci che abbiamo a disposizione ovvero elicotteri e aerei d'attacco al suolo. Si stanno preparando per sfondare finalmente il fronte. Qua invece c'è il commento di Kirill Feodorov un altro esperto militare pro russo un commento che ha rilasciato durante un collegamento in uno talk show televisivo su un canale russo federale. Ancora ad agosto mi appellavo ai nostri vertici militari già allora gli invitavo a fare qualcosa per prepararsi all'arrivo delle Atacams. In ogni singola munizione di questo tipo ci sono ben 950 submunizioni di una potenza paragonabile a una bomba a mano. Ogni submunizione poi rilascia anche numerosi frammenti e tutto questo copre un'area estesa quanto due o tre campi da calcio. Ora immaginatevi un aeroporto con nostri aerei e elicotteri all'aperto. Questi mezzi non sono come carri armati o blindati. Sì l'elicottero Mi-28 ha la cabina blindata ma non è assolutamente sufficiente credetemi. In ogni caso i motori, le eliche, i riduttori e soprattutto i serbatoi sono più che vulnerabili. Ora immaginatevi che in un aeroporto sono arrivati tre missili di questo tipo quindi tre per 950 granate e nell'altro ne sono arrivati ben 6. 950 per 6. Ora non voglio parlare del numero dei mezzi danneggiati perché non voglio accontentare il nemico ma sono numeri che mi hanno fatto sbottare e scrivere delle volgarità sul mio canale telegram. E infatti è vero perché dopo questo talk show sul suo canale telegram sono apparsi alcuni commenti diciamo così un po' critici. Lo accusavano di essere un allarmista e lui è sbottato. Ha mandato i suoi iscritti a quel paese e gli ha detto anche che se le cose vanno avanti in questo modo tra poco l'aviazione tattica russa rimarrà senza elicotteri e senza aerei d'attacco al suolo. Bisogna dire però che la descrizione degli effetti di un missile a Takams a grappolo offerta da Fyodorov è effettivamente molto azzeccata. Ora vi faccio vedere un video che in questi giorni è rimbalzato su diversi canali telegram russi. In questo video si vede il lavoro di alcuni missili a Takams in un luogo non meglio identificato. Potrebbe essere Berdyansk, potrebbe essere Luansk o potrebbe essere un altro luogo ancora. Comunque come potrete vedere queste immagini di 950 granate in ogni missile a Takams che descrive Fyodorov infatti è molto azzeccata. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. E intanto come riporta The Institute for Study of War i russi continuano ad assaltare il centro abitato di Avdivka nella regione di Donetsk e come notano già diversi esperti tra cui anche qua alcuni esperti e esperti russi questa fortezza ucraina sta diventando per l'esercito russo una vera e propria voragine che sta inghiottendo quantità esagerate di mezzi e di uomini senza dare in cambio ai russi nessun risultato tangibile. Qua i russi come nei primi giorni della guerra nel 2022 o come a febbraio nei pressi di Ungledar sono costretti ad avanzare in lunghe colonne di blindati e uomini percorrendo soprattutto le strade. Questa tattica è assolutamente fallimentare e già stato dimostrato innumerevoli volte soprattutto in questa guerra. Gli ucraini per fermare e per distruggere queste colonne utilizzano una tattica ormai collaudata. Con un missile anticarro come N-Law o Javelin, un drone kamikaze o anche una trappola di mine vengono messi KO il primo e l'ultimo mezzi della colonna. A quel punto rimangono tutti bloccati e si scatena letteralmente l'inferno. Qua bisogna dire anche che quello che si trovano ad affrontare i russi oggi ad Avdievka è molto più difficile e molto più devastante rispetto a quello che succedeva nei primi giorni della guerra nei pressi di Kiev. Perché in tutti questi mesi gli ucraini hanno avuto abbastanza tempo per prepararsi a queste eventuali offensive e chiaramente hanno minato i campi. Di conseguenza i mezzi blindati russi che rimangono bloccati in queste lunghe colonne non possono neanche sfuggire all'artiglieria, ai droni kamikaze, ai missili anticarro ucraini entrando nei campi che si trovano ai lati di queste strade. Perché i campi sono pieni di mine anticarro. Si trovano a quel punto in una vera e propria trappola mortale. Tra l'altro le mine anticarro sono anche il motivo per cui i russi sono costretti ad avanzare in questo modo. Cioè creando queste lunghe colonne di blindati sulle strade che poi diventano per gli ucraini dei veri e propri bersagli. Vi leggo come commenta la situazione l'osservatore militare tedesco Tender. Anche se non possiamo valutare interamente le perdite russe nel settore di Avdivka possiamo comunque affermare con certezza che sono straordinariamente elevate e che la Russia ha chiaramente sprecato un'enorme quantità di risorse attorno ad Avdivka. Si tratta evidentemente di un errore strategico perché anche se avessero preso questo centro abitato dal punto di vista strategico non sarebbe cambiato nulla. Intanto le risorse vitali necessarie per il prossimo inverno e per il prossimo anno sono scomparse per sempre. E la visione delle cose di questo osservatore militare è confermata anche dai numeri che emergono dal più recente bollettino dell'Orix riguardo le perdite dei mezzi da entrambe le parti nel periodo compreso tra il 15 e il 18 ottobre. Allora carri armati Russia 16 Ucraina 4 blindati pesanti Russia 18 Ucraina 4 lanciarazzi Russia 8 Ucraina 4 aviazione Russia 9 tra cui 5 elicotteri K 52 e 4 Mi 8 Ucraina 0 antiaerea Russia 1 un Tor M2 Ucraina 0 macchine per lo sminamento e mezzi ingegneristici speciali Russia 2 Ucraina 4 ecco questo è l'unico punto in cui la Russia ha battuto l'Ucraina per il semplice fatto che gli ucraini hanno perso alcuni ponti galeggianti attraversando il fiume Dnipro in questi giorni. E infine camion Russia 10 Ucraina 0 e questo spreco di risorse inizia evidentemente a far preoccupare anche i russi. Adesso vi leggo che cosa è stato scritto sul canale militare pro russo telegram Myrtvel Golave che sarebbe teste morte. Da quello che emerge dai dati più recenti nei pressi di Avdivka continuiamo a perdere le nostre divisioni mobili nei tentativi di penetrare nelle difese del nemico. Queste risorse compresi i mezzi venivano accumulati ancora dall'inverno e se nell'immediato non verrà ottenuto nessun risultato tangibile queste risorse saranno semplicemente sparecate. Il nemico intanto le risorse ce li ha ancora e la sua logistica è più semplice. queste risorse potrebbero ancora permettergli di sfondare il fronte. A giudicare dai materiali video pubblicati dagli ucraini in questi giorni nei pressi di Avdivka abbiamo già perso più mezzi di quelli che loro hanno perso nel sud dall'inizio della controffinsiva. Intanto alcuni gruppi dei parà ucraini sono riusciti ad attraversare il fiume Dnipro e a creare delle posizioni nei pressi di Poima e Piscianovka. Nonostante le difficoltà che naturalmente gli ucraini potrebbero riscontrare in un eventuale tentativo di attraversare il fiume Dnipro con i mezzi pesanti, il fronte di questa regione della regione di Kherson preoccupa molto i russi e questo lo si può vedere anche dal fatto che in questi giorni persino Putin ha parlato di questo sbarco degli ucraini a Poima. Il fatto è che in questi mesi molto spesso i reggimenti russi che dovevano difendere questa regione sono stati spostati diciamo così per tappare i buchi in Zaporizia e nei pressi di Bakhmut. E nonostante il fatto che molti esperti come ad esempio Ruslan Liviev sostengono che questo sbarco degli ucraini è solo un modo per costringere i russi a disperdere le proprie risorse il più possibile, ad esempio gli analisti degli Institute for Study of War sostengono invece che questo sbarco potrebbe essere l'inizio di un'operazione più vasta. Comunque ragazzi il fronte è evidentemente in movimento per il momento non abbiamo tante informazioni nelle fonti aperte su quello che sta accadendo soprattutto nella regione di Herson e in Zaporizia però continueremo sicuramente a seguire questa situazione molto attentamente. Mi raccomando scrivete nei commenti che cosa ne pensate mettete un like se vi è piaciuto il video come sempre vi chiedo di iscrivervi così mi aiutate a far crescere il canale e soprattutto mi aiutate a diffondere questi video il più possibile. Ragazzi vi ringrazio per la vostra attenzione per il vostro sostegno e alla prossima ciao! Grazie a tutti!